Tra poco inizieranno scolastici e come ogni anno ci sorgono i problemi, però a Nocera Superiore hanno pianificato i problemi, hanno fatto bene. Il sindaco di Nocera Superiore ha voluto pianificare i lavori che si dovevano fare nei vari istituti scolastici, cominciando dalla Luigi Settembrini. Il bello è che tutti sono stati disponibili, che è piena concordia fra i dirigenti scolastici, i docenti, i consigli di istituto e l'amministrazione comunale. Stiamo programmando questo piano di trasferimento temporaneo di alcuni alunni già da tempo e devo ringraziare la collaborazione che abbiamo trovato dei diversi dirigenti scolastici e anche di docenti che hanno dovuto sostituirsi a qualche dirigente scolastico. Però fuori da ogni tipo di polemica che non ci appartiene, noi oggi spieghiamo ai nostri concittadini cosa stiamo facendo. Stiamo proseguendo sul piano di riqualificazione dell'esilizia scolastica perché piuttosto che agire solo in un momento emergenziale, noi abbiamo pianificato, programmato degli investimenti e oggi arriviamo a realizzare cantieri, a realizzare opere per dare ambienti scolastici adeguati alla formazione e all'educazione dei diversi discenti che vivono il territorio di Nocera Superiore. Si comincia dalla Settembrini ma in realtà non dimentichiamo che abbiamo realizzato già il plesso di Porta Romana, abbiamo in corso di finanziamento la scuola media Fresa Pascoli per lo spazio delle palestre e degli uffici, abbiamo in corso la gara d'appalto su Pareti Pucciano e poi avremo e dovremo operare sulla San Giovanni Bosco dove ricordiamo anche lì purtroppo per avvicendarsi di diversi dirigenti nel corso di ogni anno abbiamo perso un po' un'importante che consentiva anche all'amministrazione di fare una prima ristrutturazione di quell'edificio. Abbiamo lavorato per evitare ogni minimo disagio, abbiamo tenuto conto delle difficoltà delle famiglie che hanno più di un bambino presso i plessi, delle distanze dalle abitazioni, dalle nuove sedi nelle quali dislochiamo le scuole, ci siamo fatti carico dal primo momento di questo problema. Abbiamo rassicurato e ci tengo a farlo anche qui i genitori degli alunni in trasferimento dal plesso Marco Polo al plesso San Giovanni Bosco che i bambini si porteranno appresso l'intera organizzazione scolastica. I bambini non cambiano docenti, non cambiano personale scolastico, non cambiano bidelli, non cambiano gli amichetti di classe, cambiano i muri nei quali faranno lezione. È stato un grosso lavoro per cercare soprattutto di avere come obiettivo fondamentale quello della qualità del servizio di istruzione e l'altro aspetto molto importante è stato anche quello di arrivare a scelte condivise, coinvolgendo anche la cittadinanza laddove possibile. L'obiettivo è quello di creare un unico sistema integrato di servizio scolastico di qualità sul territorio, per cui questa riorganizzazione che passa attraverso gli edifici scolastici, passa attraverso anche una nuova idea di scuola più moderna per certi aspetti e anche alternativa sicuramente ci darà dei risultati. È stato un momento importante, fondamentale perché ci ha permesso di condividere, di costruire percorsi di amplificazione dell'offerta formativa anche a fronte della complessità pur evidente degli edifici scolastici, quindi è un passaggio importante su cui la scuola ha dato la sua disponibilità. La fresa Pasquoli ha accolto subito, ancora prima dell'autorizzazione dell'ente locale, gli alunni delle classi quarta e quinta. Insieme si va avanti, da soli si è destinati a morire.